E' tempo di pretendere il massimo, fare spazio alle eccellenze, a quella austera meritocrazia che malgrado tutto è ancora l'unica scienza esatta ed una priorità assoluta ovviamente. La qualità della vita oggi è l'unico vero traguardo, stare bene, amare bene, conoscere bene, nutrirsi bene, riposare bene, ma soprattutto scegliere di curarsi al meglio, affinché questo meraviglioso film che è la vita ci veda ancora fieri protagonisti e non malinconiche comparse. Ho molti amici al Policlinico Gemelli di Roma, sono amici fuori dal contesto ospedaliero, ma sempre all'opera, persone generose, attive e talentuose. E oggi Dio solo sa quanto ci sia bisogno di gente preparata ed affidabile. Io sono pronto ad offrire il mio 5x1000 affinché trionfi la qualità nell'assistenza ed una maggiore consapevolezza dello spazio alla ricerca. Lo faccio anche per quelli che verranno dopo di me. Sarà una canzone, la più bella che avrò mai interpretato. Predato, sono con voi. Siate con me e con il Policlinico Gemelli. Grazie. Renato Zero.